Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un giovane pakistano lotta tra la vita e la morte all'ospedale regionale di Torrette, a seguito di un accoltellamento avvenuto dopo la mezzanotte di ieri ad Amandola. Una banale lite tra fratelli sarebbe degenerata in un'escalation di violenza, fino a trasformare il loro appartamento al civico 17 di via Filzi, in una sorta di macelleria. All'arrivo dei soccorritori sul posto c'era sangue ovunque, dentro e fuori l'abitazione, fin giù per le scale da dove la vittima ha tentato la fuga dopo essere stata colpita quasi mortalmente da un'arma da taglio. A trovarlo esanime alcuni vicini di casa, che dopo aver sentito le grida disperate, hanno chiamato il 118. Immediatamente è stata allertata anche l'eleambulanza per il trasporto notturno del ferito al Torrette di Ancona, dove nelle ultime ore è stato sottoposto a un delicatissimo intervento. Le condizioni del 25 anni sarebbero disperate. Ha perso molto sangue e la prognosi è riservata. A portare avanti le indagini coordinate dalla procura di Ascoli Piceno, i carabinieri di Amandola coadiuvati dai colleghi del Normo e di Montegiorgio. L'autore dell'aggressione, prontamente bloccato dai militari, è in stato di fermo per tentato omicidio. Si tratta del fratello maggiore della vittima, attualmente trasferito nel carcere di Marino del Tronto, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La comunità montana, guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, è sotto shock per il grave fatto di cronaca avvenuto nella tranquilla cittadina fermana.